la cosa preoccupante, signore e signore innanzitutto ho già iniziato questo video salve a tutti ragazzi sono sempre io benvenuti quest'oggi a una nuova enesimo unboxing di camera di hotel va bene ma allora innanzitutto abbiamo una special guest una, una, una special guest una special guest perché una, per quale motivo? vediamo cosa sta riprendendo lui sta riprendendo i due eletti ossia questo cioè anche io mi sto domandando che cosa succederà tra me e lui tra qualche istante qua niente naturalmente soltanto degli affettuosi scambi culturali culturali ecco esatto facciamo allora adesso un bel tour della stanza con il Cina che ci illustrerò quest'oggi sarà lui la star di questo video io sarò la voce dietro la telecamera allora Cina da dove partire? da dove partire? innanzitutto leva dalle balle mi sembra giusto ecco come prima abbiamo fatto vedere il cavalletto di il pacco di Lego vediamo un po' esatto è molto più grande del mio allora quello lì sulla sinistra è il pacco di Cina quello è il pacco di Lego è il pacco di Cina mi direi di incominciare dal comodino il comodino allora vediamo unboxiamo un po' il comodino unboxiamo grande mi piace già questo ragazzo porta anzi lui proprio lo smonta non c'è niente il comodino non c'è niente ecco c'è la droga dentro c'è la droga ma quella non la possiamo far vedere qua ci possiamo far vedere dopo aver l'assunta diciamo subito che qui c'è un vetro un vetro zoomiamo sul vetro che quindi è molto ben strutturato questo comodino è anche abbastanza pesante ottimo Cina ci fa non una semplice analisi ok spegne la luce non si vede più nulla no la riaccendiamo questa qui che cosa serve non si sa e qui non c'è niente vabbè sotto niente queste luci qua sono mi sembra risparmio energetico vediamo aspetta sono in mezzo i letti perché sono quelle bianche bianche che è fluorescenti oh bene a ripresa dal minchia che non sono allora vediamo un attimo le tende le tende sono importanti allora ok no 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 sono pulite sono pulite lui sniffa le tende no queste qui ancora quelle non sono pulite queste qui non sono pulite ok attenzione sta facendo di tutto cioè io mi sarei accontentato di qualcosa di superficiale ma il Cina non si accontenta il Cina è scopoloso il Cina vuole aprire e vedere che dall'altra parte c'è una ragazza nuda che si cambia e non la riprendiamo oh no non c'è che figata è contento che ha scoperto un abbaino cazzo che vista guardate che vista vista cos'è quello lì è il muro del del signore degli anelli cazzo lì si è il fosso di En questo e adesso arrivano gli urcai stasera boh non lo so va bene comunque la vista è spettacolare la vista è già bellissimo poi allora vediamo un attimo i letti io ho un metodo speciale non è che sei rimbalzato molto non penso se ne fai più di 5 rimbalzi il letto va bene se ne fai 3 accettabile meno di 3 vai 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 eh sono 3 diciamo accettabile però non è è morto sono spaccato niente poi vabbè il cuscino come cazzo è va oh ragazzi io devo fare un video semplice se sto qui 20 ok ok il Cine ok va bene questo qui va bene ragazzi qua c'è un telefono non schiacciare nulla che poi mi chiami non schiaccio niente ecco una cassetta con la bibbia probabilmente se il nuovo testamento il nuovo testamento è abbastanza un classico nel il padre mi ha date da compiere quelle stesse opere che faccio ok perfetto adesso vediamo un po' qualcosa di interessante che è dietro questo cavalletto qua sotto c'è il mitico frigo bar che il nostro Cine aprirà e troveremo i super alcolici i super alcolici non ci sono i super alcolici sì ma quella è la birra ma è già aperta no ok ma sai quando costa una birra no ma non toccarla che poi già solo che le toccate te la fanno pagare 4 euro no intanto è nella camera tua sì devo dirvi che siamo nella sua camera la mia è assolutamente identica però comunque poco importa però la mia era più pro perché c'aveva tutte poi qua abbiamo innanzitutto mutande del Cina no in realtà non ci sono mutande mutande del Cina no abbiamo un tavolino uno specchio gli immancabili specchi e poi qui abbiamo il menù allora innanzitutto il menù prevede un primo piatto un secondo piatto un contorno dell'acqua minerale e 15 euro un menù davvero molto ricco e specifico su cosa andrete a mangiare il Cina ha apprezzato un televisore della Grudig ma sai che non l'avevo visto il televisore no ecco questo un 4 stelle non può vederlo mica ragazzi c'è la batteria quasi scarica facciamo veloce è veloce veloce allora andiamo al clou di questo di questo diciamo unboxing che è praticamente il bagno il bagno il bagno io vi devo dire che è attrezzato di qualsiasi comfort come possiamo vedere qua abbiamo uno junior come diciamo compagno di sfide di Goku e poi qui abbiamo delle salviettine monouso che mi spurisco ok e butta il gabinetto in mancana ecco qua abbiamo no cos'è sta roba è la spugna per pulirsi le scarpe che cazzo è quella lì cucchia da doccia abbiamo le cose non sense anche la cartigenica mi sembra sense però vabbè magari tu ti pulisci il culo col naso non lo so come tu c'è la faccia però poi qui ci sono le saponette qua abbiamo che sono shampoo bagnosco shampoo no due shampoo due shampoo sapone per acqua il bicchiere lavandino qui qui la vasca da bagno dove troverete prossimamente il china e il lego in atti non si possono descrivere vediamo un attimo che non ho ancora aperto c'è un po' di merda dentro effettivamente fa un po' schifo il gabinetto ma anche il mio non è molto pulito effettivamente poi qui abbiamo una cosa lo scopino com'è lo scopino scopino di qualità eh scopino di qualità mi sa che ce l'aveva venuto un niger poi il mitico bidet è che tra l'altro mancava nell'hotel dei nord quindi questo vlog che andiamo a concludere così in bagno si concludiamo in bagno che c'è una buona voce faccio così quindi ragazzi allora questo è tutto per questo unboxing fa tutto lui il video praticamente meglio così che espressione intelligente che c'hai e nulla vi ringrazio per l'attenzione prossimamente altri hotel ma quanta roba c'è qua dentro nello schermino non si capisce niente tu ci sei io ci sono siamo a posto quindi siamo a posto e niente alla prossima bella ciao